Credo, credo, e a proposito di credere, dice la scienza, in cui noi dobbiamo credere sempre di più, dicono che tra un po' ci saranno le prove dell'esistenza di Dio, ci saranno le prove dell'esistenza di Dio. Io vorrei due biglietti per la prima, le prove non le voglio andare a vedere. Lo spettacolo si chiama Dio sia notato, vorrei andare a vedere lo spettacolo, vorrei sapere chi fa Dio, perché mi interessa sapere chi fa Dio, perché di solito un attore fa una parte, se devi fare Dio le devi fare tutte praticamente, vuole sapere chi fa Dio, vuole sapere che fa Dio, vuole sapere se ha bisogno di noi, se ha bisogno di un paio di occhiali, se sta invecchiando, perché sto facendo questi studi, è un progetto che ho da tanto tempo, è un progetto che non vorrei far fallire, è un progetto che ho da tanto, è un progetto antico, profondo, siccome sto facendo questi studi, non sulla parola, ma sui significati della parola, siccome se un figlio perde il padre e non resta orfano, e che verrà un progetto che, non si ascaldano, dovrebbenci sforzi le dici, a dir Democracy, ci credono solo un spettacolo, mentre spiegibano i dei dati l'arriva, cosa non sono più vecchi, si pensino in grado di pandemia, non sono più vecchi, non si spettano i campi", Grazie a tutti. Sicuro, sicuro. Ma sai che l'indiano per voi?